Buongiorno, vado a prepararmi la colazione Allora, io è tutta mattina che sto cercando i miei vari corsi per decidere questo cavolo di corso a scelta cosa fare E non lo so, ho tutte queste pagine aperte perché le sto valutando tutte Non lo so, aiuto Comunque, come vi accennavo ieri, ho trovato forse una soluzione Ovvero mi può ospitare la mamma di una mia amica che adesso è in Erasmus Una mia compagna di corso, però lei è di treviso Quindi sto cercando un po' di capire e di organizzarmi con anche i mezzi Perché dovrei prendere il treno Quindi devo un attimino capire anche per il tirocinio Purtroppo non so se riuscirò a fare tutto, però perlomeno ho trovato questo appoggio Lei è carinissima che mi vuole ospitare Io sono strafelice E poi è un'occasione anche per vedere un'altra città Visto che treviso mi mancava E conoscerò anche un po' treviso E niente, mi sembra che al momento io potrei iniziare a rilassarmi un po' Perché comunque, mal che vada, ho questo piano E niente, quindi posso anche iniziare a pensare di preparare le valigie per la partenza Prima però andiamo a fare da mangiare Oggi mi tratto bene Tanto tra una settimana se torno a ritmi dell'università mi rimetterò a secchetto Quindi spazzle con speck e panna Che buono il mio pranzetto Super contenta Poi mi sono fatto un ginsenghino E' arrivata mia nipote dal nido E dal nido Buonanotte dall'infanzia Abbiamo giocato col suo nuovo strumento musicale Ovvero una trombetta Perché lei piace i bersaglieri Mi ha fatto mettere sulla canzone i bersaglieri Voleva correre con i bersaglieri Mi fa spaccare E niente, quindi Abbiamo cercato di contenerla Dicendole che non può mettersi a correre con la trombetta in mano Però ha detto che lei un giorno Loro vuole diventare bersaglieri Così può farlo Detto questo Adesso sei un po' placata Sembra che si stia addormentando Io stavo giusto guardando Un pochettino di informazioni Per quanto riguarda poi i mezzi Per arrivare su Atreviso Sto sentendo un paio di mie amiche Anche per capire un po' Tutta la situazione Disastrosa del maltempo Per capire insomma Se è a casa loro Nelle zone dell'Emilia Come sta andando Che dire Disastro ovunque E niente Quindi questo Adesso mi Mi sa che vado Giù in cucina E Mi metto a leggere un pochettino Anche perché Dani Mi ha ordinato di finire il libro Che avevo iniziato Quando ero andato a Rimini Che poi lo deve leggere anche lui Perché poi dopo esce il nuovo libro di Salirone E quindi Devo finirlo Mi mancano Centinaia di pagine Quindi Adesso mi metto un po' a leggere E devo portare tra l'altro La cartolina Non vi ho fatto vedere Ho preso una cartolina stupenda Mia nonna In questo In quel negozetto Che si chiama Shakespeare Con la libreria A Praga Dove ho preso il libro Delle Delle storie Dei fratelli Grimm E E niente Ho preso una cartolina A mia nonna Non gliel'ho spedita Perché l'ultima volta Cioè ovvero Quest'estate Quando mia nipota Ha spedito le cartoline Per tutti Non sono mai arrivate Quindi tanto vale Allora Gliela porto di persona Poi le scrivo dietro qualcosina E quindi devo anche Organizzarmi E andare a trovare La mia nonna E basta Poi nei prossimi giorni Cerco di capire Le cose che vorrei Portarmi dietro Per questo semestre Sono emozionata Adesso che ho Un posto Che mi ospiterà Sono un po' più Proiettata Col nuovo semestre Quindi Sto sentendo un po' L'emozione Di ricominciare Poi oggi Che ho guardato Un po' i corsi Insomma Già entra un po' più Nell'ottica E anche se Partiamo subito Col botto Perché lunedì Lezione 8 e mezza 16 e 30 Tra l'altro Visto i treni Devo partire tipo Alle 6 del mattino Ricomincerò La vita da pendolare Che avevo Abbandonato Con grande felicità Perché sono stati anni Difficilissimi Quelli da pendolare E niente Poi Tornerò a casa Alle 6 di sera Perché Ora che finiamo Vado a prendere il treno E tutto Si fanno le 6 di sera Quindi starò fuori Tutto il giorno Praticamente E Niente Quindi questo è quanto Quindi appunto Da lunedì Poi Lui devo andare Portare la macchina A fare la revisione E magari dargli Una controllatina Perché ormai Poverina Tira gli ultimi Speriamo Mi tengo in compagnia Ancora per un po' E poi E poi devo iniziare A preparare le valigie Sono troppo contenta Bene Ne ci aggiorniamo Più tardi Avevo appena Giusto iniziato a leggere Mi ha chiamato La mamma Della mia amica Per sentirmi Un attimo Conoscermi È stata Stracarina Non vedo l'ora Di conoscerla E C'è veramente Super ospitale Un amore Non vedo l'ora Veramente Di andare là E niente Mi ha detto Tranquilla Di andare quando voglio Di non preoccuparmi Cioè Veramente Sono stata Strafortunata E quindi Abbiamo risolto Questa situazione Di Insomma Di Padova Per cui Pronti Ufficialmente Per incominciare Questo nuovo semestre Avremo Delle nuove avventure Tornerò a farla pendolare Però Guardiamo sempre I dati positivi Conoscerò nuove persone Visiterò Treviso Perché sarò lì E quindi potrò vedere Anche Treviso Quindi vediamo Tutti questi aspetti positivi Bisogna sempre Cogliere Gli aspetti positivi Di tutto Di tutto quello Che ci accade E su questo Mi sto allenando Perché la mia psicologa Mi ha sempre detto Di guardare sempre Le cose Da un altro punto di vista E quindi Se mi soffermo Solo sulle cose Che mi sono state tolte Non ce la caviamo più Per cui Dobbiamo sempre Allenarci A vedere anche il resto Le opportunità Che questa esperienza Questa disavventura Mi sta dando Ora Ufficialmente Torno a leggere E mi vado anche A provare la merenda Perché ridendo E scherzando Già ora di merenda Non so cosa mangiare Per merenda Non so se Mangiare quest'ultima Barretta Che mi rimane E magari un pezzetto Di banana Sono molto combattuta Questa bambina E la bambina E la bambina E la bambina Un po' nel bosco E poi torno per cena Eccomi tornata Dalla passeggiata Nel bosco E ci abbiamo messo Anche tra l'altro Un'oretta Quindi poi mi sono Fiondata in doccia Adesso è tardino Perché ora che Ho scioglato i capelli È tutto Poi ho mandato Altri vocali A varie mie amiche Per chiedere altre informazioni Insomma Un po' per il nuovo semestre E niente Quindi È stato tardi Vado a preparare la cena Io pronta Per andare a letto Questa sera Ho finito di ascoltare Un po' di vocali Delle mie amiche Che mi hanno Dato altri consigli utili Insomma Ci siamo un po' Confrontate Anche su Poi i mezzi Di trasporto Che devo prendere Da Treviso Per Padova E sono state Super carine E niente Adesso non mi resta Che preparare le valigie Per partire Quindi io Vi saluto Vi ringrazio Per essere stati con me Anche oggi Vi invito a lasciare Un like a questo video Qui come sempre Trovate i miei social E vi ricordo Di iscrivervi Al mio canale Se ancora non l'avete fatto E noi Ci vediamo domani Ciao